Benvenuti e bentrovati dal TG di Gran Turismo Ultima ora, new entry in casa DC Team Beto dal 79 e Black Cat pronti a scendere in pista I due piloti sono già impegnati nel campionato Super Trofeo Two years of the beers Al via stasera con gara 1, tire 3, ore 21.30 Live canale YouTube Performance Bear Crew Ecco che dunque viene inaugurato così il nuovo campionato che festeggia l'anniversario dell'omonimo team DC Team, nuova partnership ufficiale con SCORE Diventerà fornitore ufficiale premi 2022 Viene così sancita la collaborazione tra la piattaforma che si occupa di PC, gaming e stampanti grafiche 3D Novità, Extreme Racer Zone, ampia le classificazioni amatorie pro suddivideranno in modo eco tutti i tire Viene introdotta anche una nuova classificazione Tiger 4 in modo tale da avere una competizione ancora più serrata Queste sono tutte le notizie, buon proseguimento Queste sono tutte le notizie, buon proseguimento Grazie a tutti